Ridurre lo stress per aumentare la sicurezza sul lavoro. È un nuovo progetto di prevenzione per limitare gli infortuni nel settore costruzioni, quello che Inail Veneto e le scuole edili della regione dedicano ad un comparto fortemente caratterizzato per la sua pericolosità e l'elevato numero di casi infortunistici gravi. Nei prossimi sei mesi, dai 4 ai 6 mila operatori del settore, parteciperanno ad un'enorme raccolta dati, un'analisi approfondita sullo stress e la sicurezza in edilizia. Questo tipo di analisi è fondamentale perché aiuterà tante piccole e medie imprese soprattutto che trovano difficoltà nell'affrontare un argomento complesso e sia internamente che trovare proprio il tempo per affrontarlo che quello dello stress con i propri collaboratori. È un ambiente difficile, è il nostro, ma è un ambiente in cui la collaborazione è fondamentale. Quindi avere dei dati, dei modelli che ci aiuteranno a migliorare le interazioni è sicuramente uno strumento utilissimo. Inail parteciperà concretamente al progetto sia dal punto di vista tecnico, valutando gli strumenti posti in essere, sia dal punto di vista amministrativo, collaborando nella gestione e nella diffusione dei risultati del progetto, sia dal punto di vista finanziario con un contributo economico. Carichi di lavoro eccessivi, precarietà, comunicazione inefficace, cambiamenti organizzativi mal organizzati e scadenze ravvicinate possono rappresentare altrettante cause di stress da lavoro correlato che determina un aumento del rischio infortunistico. Lo stress da lavoro correlato può incidere sugli infortuni e le malattie professionali del lavoratore. Per questo motivo è giusto prevenire all'interno di un cantiere, all'interno di un'impresa. Dobbiamo iniziare a capire se quando si entra in cantiere si entra nel modo giusto, se ci sono delle problematiche da intercettare prima e questo è un po' quello che noi vorremmo cercare di fare con questo progetto. Approfondire con i lavoratori le cause che generano stress potrebbe consentire la costruzione di percorsi di prevenzione degli infortuni e aiutare piccole e medie imprese edili ad ottenere dati e modelli utili per migliorare l'organizzazione aziendale.